L'incidente oggi pomeriggio lunedì 29 gennaio, poco prima delle 16.30, a Rivara, in piazza Barbacana, all'incrocio semaforico tra Corsogliani e Via Levone, a scontrarsi una Fiat Panda una Volkswagen Up. L'impatto è stato violento, tanto che la Volkswagen si è ribaltata adagiandosi su un fianco al lato di Via Levone, vicino al muro. Sul posto sono prontamente intervenuti l'ambulanza della Croce Rossa di Rivarolo Canavese, i carabinieri di Corio e del nucleo radiomobile di Venere Reale, e la protezione civile di Rivara per la viabilità. La donna che si trovava alla guida della Volkswagen è stata estratta dalla vettura della Croce Rossa e dopo i primi accertamenti è stata trasportata all'ospedale di Quarnier. Ha riportato qualche contusione e un grande spavento, illeso il conducente della Panda, la dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri. Grazie a tutti! Grazie a tutti!